In questo numero, con la crisi in ritocco si fa soft, promosse 15 regioni per l'erogazione dei LEA, critica la Campania. Laureati in medicina in fuga all'estero, fino a mille l'anno. E ancora, un italiano su quattro con fegato grasso, spia cattive abitudini a tavola. Italiani correggono errori in DNA malato con bisturi molecolare. Ordine dei medici di Milano, nuovo codice deontologico, grave attacco all'autonomia. Il vero o falso di questa settimana parla di ipertensione arteriosa. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Il ritocco estetico diventa più soft e anche meno costoso. La crisi economica ha infatti intaccato la chirurgia, ma quasi per niente la medicina estetica, dato che gli interventi più pesanti si sono ridotti del 30%, mentre quelli più leggeri sono aumentati del 15% negli ultimi tre anni. È il bilancio tracciato in occasione del 35esimo congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica a Roma. Negli ultimi anni abbiamo assistito per problemi sociali, quindi di crisi sociale, ad una riduzione di molti aspetti della estetica medica e chirurgica. Sicuramente la chirurgia estetica ha segnato un po' il passo. La medicina estetica ha mantenuto, intanto perché le tariffe della medicina estetica sono più basse rispetto a quelle della chirurgia, poi perché la medicina estetica dà delle possibilità decisamente superiori rispetto a un tempo di mantenimento e correzione. Al congresso riflettori puntati sul grasso ad ali di farfalla, che sempre più giovani presentano a causa dei pantaloni a vita bassa che stringono troppo e anche gli uomini diventano fan dei ritocchi estetici. Top 5 nell'uomo, tossina botulinica, filler, trattamento del tessuto adiposo, depilazione e macchie. Nella donna invece filler, tossina botulinica, biostimolazione, trattamento delle macchie e quindi tessuto adiposo. Sono 15 le regioni promosse per i livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini. Su 16 regioni monitorate, le adempienti passano dunque da 13 a 15, di cui 10 in piena regola. Cresce quindi l'appropriatezza delle prestazioni nel paese e non solo al nord. Diverse regioni del sud infatti superano l'esame anche se con riserva. Ressa critica la campagna. E quanto emerge dal monitoraggio 2012 dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Fra i passi avanti compiuti, più posti in hospice per i malati di tumori e in alcune regioni interventi più tempestivi nella frattura del femore e meno parti cesarei. Resta molto da fare ancora per l'assistenza ad anziani e disabili. Rispetto al 2011, nel 2012 emerge dal rapporto un miglioramento per il Lazio, che avendo assolto gli impegni previsti risulta adempiente. Bene anche Puglia e Calabria, che passano da una situazione critica ad un livello in cui, assolvendo alcuni impegni, possono diventare adempienti. Questo, sottolinea il Ministero, evidenzia l'effetto positivo del programma di supporto attraverso i piani di rientro in tre regioni su sei. Negli ultimi cinque anni, su 6-7 mila laureati in medicina, circa il 2%, oltre 700 unità, è emigrato all'estero in cerca di un lavoro. Un numero considerevole e sottostimato. Si calcola infatti che siano circa mille i giovani dottori che ogni anno varcano il confine italiano. Francia, Germania, Svezia, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti, e Australia, i paesi più gettonati. A scattare la fotografia è Domenico Montemurro, coordinatore dell'osservatore giovani FNOMCEO, che ha analizzato il numero delle cancellazioni dall'albo con richiesta specifica di andare all'estero. Un fenomeno, a detta del coordinatore dell'osservatorio giovani della Federazione Nazionale Ordini Medici, preoccupante e in continua scesa. Oltre ai 150-200 laureati che ogni anno si cancellano dall'albo, dichiarando esplicitamente l'intenzione di andare a lavorare all'estero, c'è infatti un gruppo di giovani medici che, pur non cancellandosi dall'albo, varca il confine. I motivi della fuga all'estero dei giovani medici sono soprattutto due. Il primo, sottolinea Montemurro, è l'imbuto formativo che non permette ai laureati di entrare nelle scuole di specializzazione. A fronte di circa 7.000 laureati l'anno, e in futuro potrebbero essere di più, solo la metà o poco più riesce a entrare nelle scuole. I più fortunati che riescono ad accedere alla specializzazione devono invece stare attenti a non sbagliare corso. In determinate aree specialistiche, dice Montemurro, si registra un esubero di camici bianchi e trovare lavoro è difficilissimo, se non impossibile. Per mettere un freno a questa fuga, secondo Montemurro, una soluzione potrebbe essere quella di abolire l'obbligo della specialità, creando quindi percorsi professionalizzanti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale della steatosi epatica, meglio conosciuta come fegato grasso, un eccessivo accumulo di tessuto adiposo nelle cellule epatiche. In Italia si stima che circa il 25% di tutta la popolazione abbia il fegato grasso e la prevalenza sale vertiginosamente dopo i 40 anni con valori di oltre il 50% negli over 60. Sia il cardiologo, sia il diabetologo, sia lo specialista epatogastroenterologo, l'internista, già chiedono l'ecografia. Non sempre viene valutato il peso di questo indicatore, cioè del presenza o meno della steatosi, però gli studi negli ultimi anni hanno dimostrato chiaramente che sia per malattie cardiovascolari, sia per malattie metaboliche, soprattutto gli abete, come per malattie epatodigestive di qualsiasi tipo, l'avere o non avere grasso e più o meno grasso è un indice che correla direttamente col rischio di morbidità e di mortalità. La Fondazione Italiana per la ricerca in epatologia ha avviato in vista dell'Expo 2015, dedicato proprio all'alimentazione, la campagna di informazione fegato specchio della salute alimentare, scegliendo come partner Doctors Life, il primo canale tv al mondo dedicato all'informazione e alla formazione medico-scientifica, edito dall'ADN Cronos Salute. Proprio in collaborazione con Doctor Life, la Fondazione Italiana per la ricerca in epatologia, istituzione dell'Associazione Italiana dell'Astituto del Fegato, promuove questa campagna di comunicazione e anche di prevenzione di fegato specchio della salute alimentare e cercherà di divulgare nella popolazione e anche ai medici la nozione che la misura della quantità di grasso nel fegato è un indice di qualità e correttezza dell'alimentazione del singolo. Svolta Italiana sul fronte della terapia genica, quella che prova a curare una malattia scritta nel DNA correggendo il difetto responsabile. Invece di introdurre dall'esterno la copia sana del gene anomalo, gli scienziati dell'Istituto San Raffaele Teleton per la terapia genica di Milano sono riusciti a cancellare l'errore direttamente sul gene malato, grazie a una tecnica chiamata editing del genoma, ideata dal premio Nobel 2007 per la medicina Mauro Capecchi. Utilizzando dei bisturi molecolari, i ricercatori del T-Jet hanno aggiustato il difetto all'origine di una grave immunodeficienza ereditaria, la SID-X1, in cui la tradizionale terapia genica aveva dato problemi di sicurezza. In pratica, per la prima volta l'equip tricolore ha scritto il DNA di cellule staminali del sangue agendo direttamente sul codice della vita. Lo studio pubblicato su Nature è condotto sui topi, ma apre le porte all'applicazione sull'uomo. Un grave attacco all'autonomia del medico, a cui si aggiunge l'assurdo obbligo di assicurarsi. Così il presidente dell'ordine di Milano, Roberto Carlo Rossi, definisce il nuovo codice deontologico dei camici bianchi italiani, approvato da pochi giorni raggiungendo la maggioranza dei votanti, ma non l'unanimità. L'ordine meneghino, che non ha escluso la strada del ricorso al TAR, lancia un avvertimento. Il codice deontologico di FNOMCEO non è vincolante per i 106 ordini provinciali. In mancanza di un vero accordo, quindi, si potrebbe arrivare paradossalmente ad altrettante versioni. Un epilogo che l'ordine di Milano non auspica e non vuole, augurandosi che prevalga una mediazione davvero unitaria. I punti caldi che hanno innescato l'opposizione del presidente milanese sono essenzialmente due. L'articolo che declina i doveri del medico, che secondo Rossi, è inaccettabile perché rimanda la definizione delle competenze agli ordinamenti universitari. L'altro è quello relativo al profilo assicurativo. L'obbligo di sottoscrivere una polizza è assolutamente indigeribile. Osserva Rossi. È vero che l'ipertensione arteriosa avviene solo dopo i 40 anni? Assolutamente falso. Di ipertensione si soffre maggiormente dopo i 40 anni, ma l'ipertensione incide a tutte le età oltre i 18 anni. La probabilità di ammalare di ipertensione è inferiore nei soggetti più giovani, ma nessuna classe adulta è esente da ipertensione. Oggi anche i bambini soffrono di ipertensione. È vero che le donne non soffrono di ipertensione arteriosa? È assolutamente falso. Le donne soffrono di ipertensione esattamente come gli uomini. Quello che cambia è l'età di insorgenza dell'ipertensione che nelle donne è più ritardata e in generale più frequente dopo la menopausa. Giramenti di testa e vertigini sono sintomi dell'ipertensione? È parzialmente vero, nel senso che in alcuni pazienti, in una percentuale non maggioritaria ma comunque significativa di pazienti, le prime manifestazioni dell'ipertensione possono essere i propri sintomi che lei ha nominato. È vero che assumere sale facilita l'insorgenza dell'ipertensione? È sicuramente vero. Il sale ha una correlazione diretta con l'aumento della pressione. Le popolazioni che non conoscono il sale non conoscono nemmeno l'ipertensione e oggi per noi la battaglia al sale rappresenta una delle strategie più efficaci per la prevenzione dell'ipertensione. Indice di ipertensione arteriosa è avere la pressione alta? No, non è esattamente avere la pressione alta, è una cosa più complessa, nel senso che è una combinazione tra l'avere la pressione alta ed avere altri fattori di rischio associati che complessivamente aumentano il profilo di rischio del paziente. L'ipertensione arteriosa può essere prevenuta con l'alimentazione? L'ipertensione è vero, è vero, perfettamente vero. L'ipertensione può essere prevenuta con l'alimentazione intervenendo su quegli aspetti come l'ingestione di sale o l'ingestione eccessiva di grassi che possono favorire i meccanismi che sono responsabili dell'aumento della pressione. È vero che è facile curare l'ipertensione arteriosa? È falso, è vero al tempo stesso, nel senso che è vero perché esistono farmaci che sono estremamente efficaci e è falso perché un buon controllo della pressione può essere ottenuto soltanto se si sanno utilizzare i farmaci più adeguati sulla base delle caratteristiche del paziente, soprattutto se si sanno combinare farmaci in maniera efficace. Creare un registro nazionale dei traumi dentali per censire casi di maltrattamento ai minori, lavorare con il Ministero della Salute a un progetto di tutela sul piano dontoiatrico delle fasce deboli e infine istituire una giornata nazionale per la prevenzione della salute orale da tenersi ogni 20 marzo. Sono le tre proposte dell'Associazione Italiana Dontoiatri al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, contenute in una lettera inviata dal Presidente Aio Pierluigi Delogu. La missiva precede un incontro che, nelle intenzioni degli odontoiatri, avrà i tre obiettivi citati. Andare verso contraccettivi che rispettino di più l'ambiente. Il concetto di contraccettivo verde è una sfida. Una contraccettione efficiente è verde in sé, in quanto aiuta a controllare la popolazione e quindi la salute dell'ambiente. Ma in questa categoria ci sono molti fattori migliorabili. Parola di Diana Blate dei National Institute of Health di Bethesda. Degli USA, che dal congresso dell'European Society of Contraception and Reproductive Health di Lisbona, vede all'orizzonte una contraccezione più sostenibile e propone di sviluppare un punteggio green, che premi i contraccettivi più amici dell'ambiente. La prima preoccupazione legata ai prodotti ormonali riguarda i composti che finiscono nelle acque e possono minacciare pesci e animali selvatici, avverte la studiosa. I batteri sono in grado di colonizzare la placenta di donne incinte sane e avrebbero un ruolo determinante nella nascita prematura dei bambini. A rivelarlo è uno studio americano. Fino ad oggi si credeva che la placenta fosse sterile, ma analizzando con un'alta tecnologia, quella di 320 neomamme, i ricercatori hanno rintracciato il DNA di diversi batteri, tra i quali l'escherica coli. Sul campione generale il tasso di microbi buoni è risultato nettamente inferiore nelle 89 placente donate dopo una nascita prematura. La flora microbica, rintracciata dai ricercatori inoltre, è risultata molto simile a quella della bocca. E probabilmente proprio dalla bocca della futura mamma i microbi buoni e cattivi entrano in circolo per arrivare fino alla placenta. L'insulina diventa friendly grazie al primo cerotto microinfusore che sbarca in Italia. Il dispositivo, già usato da oltre 65.000 persone con diabete nel mondo, di cui più di 13.000 in Europa, è senza cateteri, si indossa sotto i vestiti ed è impermeabile. Segni particolari. Nasce dal sogno di un padre che voleva vedere il figlio diabetico, libero di fare una corsa o una partita a calcio con gli amici senza sentirsi vincolato dalla malattia. My Life Omnipod, questo è il nome del cerotto microinfusore, accompagnato da un palmare per il comando da remoto, è stato illustrato a Milano. C'è un nuovo rischio che sta allarmando la comunità scientifica. La possibilità che si possano liberare, anche a causa di incidenti o smarrimenti in laboratorio, alcuni super virus pericolosi, dalla SARS all'Ebola, frutto di manipolazioni e mutazioni dei ceppi naturali, contro cui potrebbe non esserci rimedio se scoppiasse una pandemia. Non è lo scenario fantascientifico di un film hollywoodiano, ma l'allarme lanciato da due epidemiologi in un articolo pubblicato su Plus Medicine. Controlli a tappeto su età, collaudi, manutenzioni, contratti e tempi di utilizzo delle apparecchiature biomediche presenti all'interno degli ospedali italiani come PET, TAC, risonanze magnetiche e acceleratori lineari. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2014, è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute sull'istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate. Le informazioni che si vogliono raccogliere riguardano principalmente dove è collocata l'apparecchiatura, le caratteristiche tecniche specifiche, quanto viene utilizzata, i collaudi, la manutenzione e naturalmente l'età e la presenza o meno di contratti di manutenzione. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.